Salve a tutti ragazzi sono FedEx96 Oggi sto facendo un video con GKGalax97 Che è già comparso in qualche altro video però sotto forma di un altro account Ma lo manteniamo segreto E oggi c'è la partecipazione speciale di Elmagico97 E di SykesGBR Oggi siamo a Bichershop come potete vedere nel fienile E stiamo tutti sopra perché Sotto di noi c'è tutto questo ammasso di cavalli qua Guardate qua quanti cavalli ci sono Non riusciamo neanche a muoverci Tutti questi cavalli qua Guardate qua Ci sono un'assurdità di cavalli Tipo che se io sparo faccio un casino dell'altro mondo Aspetta, spostati un secondo Sykes Ok Tutti i cavalli si muovono E adesso ci sono messi qui apposta per fare questo Allora Se voi un giorno non avete niente da fare Prendete i cavalli Li rinchiudete dentro una stalla E prendete una dinamite Dinamite Eccola qui Vi girate verso i cavalli Facciamo uscire Magico che Guardate Magico non riesce neanche a uscire da quanti cavalli ci sono E adesso 3 2 1 Oddio Guardate qua Oh no Minchia sto muore Sono morto anch'io Mi ha ucciso Sykes E ora andiamo a vedere tutti i cadaveri che ci sono Allora Dove cavallo Eh pure a me mi si è Non so se avete visto Il gioco si è rallentato Comunque Andiamo a vedere Vedete c'è una bitch Verso La casa di Marston Qui c'è il fienile Più avanti c'è la casa Dietro c'è la casa Eccola qui Andiamo a vedere Ricordo che mi muovo come un handicappato Perché uso una mano sola Ed ecco qui Ecco qua Tutti i cavalli morti Sono tutti ammassati Guardate qui Sono anche baggati Con la cresta che va in su Guardate qua C'è un ammasso assurdo Che poi Cioè non possono neanche stare tutti raggruppati Perché se ne vogliono tanti nello stesso posto Alcuni scompaiono Comunque anche per questo video è tutto Da Magico Sykes Fedex E Come cazzo ti chiami GKS Galaxy 97 E tutto Alla prossima